In questo momento, sui monitor della nostra sala operativa, gli operatori VTS seguono il transito allo stretto del convoglio che accompagna la fiacca all'Olimpica. L'attraversamento dello stretto è complesso in ragione delle forti correnti e dell'intenso traffico. Il centro VTS della Guardia Costiera dispone di una situazione, sempre aggiornata, del traffico marittimo nello stretto e fornisce informazioni e assistenza alle navi in transito allo scopo di prevenire incidenti e incrementare la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente.